ecco dove abbiamo interrotto eccoci qua stavamo appunto dicendo soltanto noi vi ricordate stavamo aggiungendo i nomi no di questi dieci ragazzi o sono nomi come osserverete simbolici in realtà insomma ai tempi di boccaccio non è che a firenze ci si chiamasse così no sono tutti nomi più o meno di origine letteraria o comunque hanno a che fare con la lingua greca vedete qualche esempio no fra gli uomini per esempio c'è questa cosa questo signore che si chiama panfilo pan significa tanto tutto filo amore appunto tutto amore e le storie che racconterà panfilo sono molto spesso intrecciate con vicende amorose ecco invece questo è il più simpatico di tutti come impareremo poi a conoscerlo dioneo per esempio è il lussurioso ma non interno nel senso in cui intende dante è un po il jolly il jolly della situazione poi in effetti sì le sue nelle sue sono sempre un po novelle come dire sboccate molto spesso al confine con con le barzellette sporche diciamo così quindi è il personaggio che diciamo è meno controllabile rispetto a tanti altri ecco poi vedete fiammetta per esempio ricorda addirittura il nome della donna amata a napoli da da boccaccio e quindi c'è un ricordo di questa donna che per lui ha rappresentato molto laura e sarà poi la donna amata di petrarca un grande amico di boccaccio come sapete quindi c'è una lauretta in mezzo a queste sette ragazze e poi pure qui vedete filomena è l'amata cioè in greco no significa amata quindi ecco questi questi ragazzi da questi con questi nomi particolarmente così evocativi sono sono i dieci punto come dire i protagonisti del delle storie della storia del decameron quindi ecco abbiamo già visto questi la struttura è praticamente come dicevamo prima dell'interruzione basata sul numero dieci dieci giorni dieci ragazzi ovviamente dieci temi diversi e e quindi questo è un po il il quadro il quadro della della di tutta questa faccenda e sul decameron in effetti dobbiamo così parlare insomma di della differenza anche no che potremmo trovare se paragonassimo il decameron con la con la commedia di dante no ecco sul vostro libro usate nessun questo su questo computer non ho il la slide da farvi vedere ecco se avete davanti il vostro libro e andate a vedere a pagina 510 e un paragrafetto abbastanza eh come dire eh limitato eh come 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 numero di righe ma eh molto importante ecco eh è quello che comincia con la con le parole un atteggiamento ugualmente aperto e a pagina 510 c'è scritto vedete il decameron e la commedia di dante ecco potremmo già paragonarli in effetti in entrambi in entrambi casi eh noi ci troviamo di fronte a ehm delle opere quasi enciclopediche eh cioè delle opere enormi grosse che danno una rappresentazione insomma della dell'epoca in cui sono state scritte in effetti sapete dentro la commedia ci sono una valanga no di personaggi storici di personaggi inventati eh che dante prende dalla letteratura no eh anche però di personaggi che lui stesso ha conosciuto in effetti e eh e anche e anche nel decameron c'è questa visione molto ampia no questa volontà di darci un affresco molto ampio insomma della dell'epoca in cui Boccaccio stesso scrive quindi storie come vedrete ambientate addirittura eh nell'antica Roma storie invece che chiaramente hanno a che fare con la contemporaneità ecco però cambia completamente fra Dante e Boccaccio eh come dire la visione del mondo ecco mi dispiace perché sulla slide l'avevo sottolineata poi tanto comunque ce l'avrete su su muto io cerco di sottolinearvela oggi adesso in questo momento a voce no in pratica che vuol dire due visioni del mondo diverse beh eh partiamo da quelli che io eh considero no i i motori delle vicende umane secondo Boccaccio secondo Boccaccio ragazzi le cose eh nella nostra vita le muovono attenzione eh sono solo tre i motorini il primo ma non so se è il primo non in ordine di importanza eh quindi un motore è sicuramente la fortuna c'è la casualità delle cose che ci succedono c'ha un enorme ruolo ma in effetti possiamo anche essere d'accordo vedete come la la eh la visione del mondo sia molto più vicina no alla nostra rispetto a quella di Dante Dante tanto per per togliercelo subito dai dai piedi che che visione del mondo c'ha una visione del mondo orientata verso no Dio chiaramente Dio che è il nostro giudice è quello che ci fa vivere è quello che insomma ordina la nostra vita anche nel quotidiano no quindi non c'è niente che esca fuori da questa da questa volontà no divina eh a cui noi dobbiamo soggiacere praticamente quindi eh Dante è è proprio no il classico uomo del medioevo no chiaramente Boccaccio vive nel medioevo ovviamente però sta già pensando no da buon esponente del medioevo comunale è che forse qualche libertà noi uomini ce l'abbiamo no nel dirigere la nostra vita in effetti quindi va beh la fortuna già è qualcosa che Dante non non comprendeva no nel nel suo sistema nella sua visione del mondo invece per Boccaccio il caso nella casualità è molto molto influente sulle nostre sulle nostre vicende due l'industria quello che lui chiama industria cioè il saperse la cavare praticamente eh l'intraprendenza eh quello è l'altro un altro motore importante cioè anche quando ce la vediamo brutta diciamo così diciamo in condizioni spesso stavorevoli insomma no il caso ci ha messo di fronte eh ostacoli no che non erano previsti però noi grazie alla nostra industria come la chiama Boccaccio la nostra intraprendenza la voglia la voglia di farcela comunque eh la capacità la nostra intelligenza anche la nostra astuzia qualche volta eh beh riusciamo a superare questi ostacoli altre volte no insomma però ecco ci si prova quindi ecco l'intraprendenza umana è un'altra un altro motore l'altro motore beh ragazzi è l'amore l'amore attenzione l'abbiamo già detto forse l'avete già sentito in uno di quei video no l'amore per Boccaccio è un amore più moderno no è sicuramente un amore che è spirituale anche in certi casi sì due cuori che si incontrano però anche il desiderio cioè il desiderio corpo e fisicità cioè è eros quindi è una una concezione amorosa no che vi ricordate pure voi ci avete lavorato che ne so molto lontana no ormai da quella da quella stilovistica no tanto per capirci quindi insomma eh questo era un po' eh un se dovessimo paragonare no se dovessimo confrontare diciamo così queste due grandi opere del medioevo italiano quelle su cui insomma soffriremo ancora per qualche per qualche mese e ecco questa è la differenza diciamo volendola ridurre proprio al succo la differenza sta nel fatto che per Dante Dio è il timoniere delle nostre vicende punto non c'è altro no chiaramente per Boccaccio come avete visto in una visione chiamiamola tecnicamente col nome giusto più laica cioè meno meno dipendente da fattori religiosi no spirituali e invece insomma le nostre vicende sono sono in qualche modo dirette no eh da la casualità dal desiderio amoroso e poi dalla nostra capacità di cavarcela anche in condizioni difficili quindi come vedete insomma due visioni del mondo molto diverse qualcuno dice addirittura apposte ma insomma eh non è che Boccaccio sia un ateo o un o un non religioso eh badate bene però insomma sicuramente dimostra no quasi quasi dico qualche volta facendo lo spiritoso di avere un piede già fuori no della del medioevo no dell'immaginario e della cultura medioevo insomma eh bene quindi questo era era un po' il il discorso che volevo farvi ma in maniera meno meno rocambolesca di quanto è successo e io a questo punto eh voglio vedere se in cinque dieci minuti riesco a risolvere i problemi insomma che eh continuo ad avere quindi eh se facciamo una cosa se per voi non è complicato prendiamoci dieci minuti ci rivediamo alle undici e eh voi adesso uscite come se avessimo finito la lezione poi rientrate alle undici rientrate ok? In qualche modo faremo insomma o entrate eh faremo lezione insomma su questo mio computer di riserva oppure entraremo insomma nel mio computer quello quello tra virgolette buono ok? Quindi ci vediamo qui fra dieci minuti e intanto mi date il modo di eh provare a risolvere i miei i miei problemi di di computer ok? Va bene però 10 minuti arrivederci ciao ciao arrivederci All right Ey Rup parler Rupboards Scravo Sì Ehm